Nessuna cabina e pochi scomparti per il cibo. Si chiama stand-up paddle e non è altro che una grande tavola da surf. Il recordman degli sport estremi, l'ungherese Gabor Raconchai, vuole usarla per attraversare l'oceano Atlantico, un viaggio di circa due mesi dalle Canarie d'Antigua per una distanza di 5200 chilometri. Conto di avere quattro giorni di tempesta, poi ci saranno una o due settimane, diciamo, scomode, senza grandi pericoli. A volte il vento forte e le onde alte mi fanno desiderare di trovarmi altrove, ma il resto è pura gioia. Se riuscirà nell'impresa, sarà la prima persona al mondo a viaggiare dall'Europa all'America a bordo di una stand-up paddle. Gabor mostra alle telecamere di Euronews parte del suo occorrente, un depuratore d'acqua che può essere usato per rendere potabile l'acqua dell'oceano. Per il resto l'equipaggiamento è ridotto al minimo, oltre al cibo, solo apparecchi per la comunicazione e la sopravvivenza.